E a Milano contro episodi di violenza, furti e rapine succede che i cittadini si organizzino un po' da sé, come creando delle pagine web nelle quali pubblicano dei filmati dove si vedono i volti dei malfattori. Vediamo. Tre omicidi a Roma in pochi giorni, regolamenti di conti per gli inquirenti tra bande criminali, per lo spaccio di droga, soprattutto cocaina, rapine con ferite accoltellate, aggressioni e borseggi a Milano, ma anche a Firenze, Napoli e Bologna, in un'escalation di violenza e sopprusi che aumenta il senso di insicurezza dei cittadini, con le forze dell'ordine impegnate ogni giorno a prevenire e ad arrestare i responsabili, con pattuglie nelle zone più a rischio e nuove agenti in arrivo, ma anche con mezzi sofisticati, come droni a infrarossi, telecamere nelle auto collegate con la centrale, bodycam e taser, le pistole ad impulso elettrico per immobilizzare. Indubbiamente il senso di sicurezza è cresciuto con l'utilizzo del taser, consente anche agli operatori di pulizia di essere più sicuri di se stessi, perché non sono obbligati poi a dover utilizzare strumenti come le armi da fuoco. Mezzi, ma anche nuovi progetti per garantire la sicurezza dei cittadini, come a Firenze, dove tutti gli autobus nei prossimi mesi saranno montate, in alcuni sono già operative, 5 o 6 telecamere, che inquadreranno salite, discese, interno ed esterno del mezzo, su cui sarà presente anche un pulsante d'allarme collegato direttamente con le forze dell'ordine. Mentre a Milano, nella speranza di scongiurare il ripetersi di reati da giorni, vengono pubblicati video che documentano spaccio, occupazioni abusive, scippi e furti ai danni di pendolari e turisti, metodo che però ha scatenato polemiche dopo che nei giorni scorsi una consigliera comunale del PD li ha giudicati violenti e lesivi della privacy. Nella classifica che ogni anno, in sole 24 ore fa, sulla vivibilità delle province italiane, Milano risulta prima nell'indice di criminalità davanti a Rimini a Torino, con rapine in strada e furti, i reati più segnalati.